Ebbene, non potevamo non essere presenti a un evento così importante come il Salone Internazionale del Turismo a Stoccarda 2024, soprattutto dopo aver intrapreso politiche di riqualificazione e internazionalizzazione del villaggio turistico Grotta dell'Acqua. Ebbene, Peschi ci c'è, il Gargano c'è, Grotta dell'Acqua c'è a Stoccarda 2024, ma vi dirò di più. Saremo presenti anche alla Fiera del Turismo a Monaco di Bavira a febbraio 2024, con un po' di amaro in bocca perché abbiamo visto la partecipazione di quasi tutte le regioni italiane, ma l'assenza totale della nostra amata Puglia. Ma ce la faremo, forza Peschici, forza Gargano, forza Grotta dell'Acqua!